Allora, l'IT porta valore ai colleghi di business e se li aiuta nel svolgere i loro compiti. I colleghi di business per svolgere i loro compiti seguono dei processi e questi processi possono essere abilitati e supportati da soluzioni IT o servizi digitali. E' quindi importante che le persone che lavorano all'interno della funzione IT riescano a comprendere quali sono le esigenze dei colleghi di business. Per fare questo è importante, ritengo sicuramente essenziale, conoscere i processi di business della propria azienda e quindi estendere le proprie competenze andando oltre l'area tecnica, ma entrando anche nelle competenze di business dell'area che si presidia. Questo tema è particolarmente importante, soprattutto ultimamente, in cui si assiste a un altissimo turnover delle funzioni IT e quindi anche le nuove persone che molto spesso entrano sempre più di frequente in azienda, hanno dei notevolissimi skill tecnologici, ma necessitano di comprendere in maniera più evoluta anche i processi di business, perché molto spesso quello che i responsabili di business evidenziano nella direzione IT è proprio il riscontrare questa mancanza di competenza. E' sicuramente importante quindi evolvere il ruolo e le competenze delle persone e delle figure IT andando oltre le competenze tecnologiche, ma entrando sempre di più nelle conoscenze dei processi di business, diventando un padre per i colleghi che gestiscono tali processi.